Efficace qui, la chiusura! Sembra non capacitarsi di quello che ha fatto. Intanto qui rivediamo l'autogol da altra angolazione. È stato sfortunato Pierluigi. Ha toccato male la palla e ne è uscita fuori una traiettoria imprendibile per il suo quartiere. Cerca la profondità. Si preannuncia una seconda metà di stagione a dire poco complicata per loro a causa di una pessima stag... Magari tagliamo, vinto infatti sia il pallone d'oro che il FIFA World Player. Voi pensate che io sbaglio, ma non sbaglio mai. In Europa se lo ricordano bene. Si stanno meritando la posizione partita dopo partita Pierluigi. Spazza via! Il finale di stagione rischia di trasformarsi in un calvario. Detiene il record di presenze con la maglia della Danimarca. 129 dal 1987 al 2001. Sembrano, sembrano eh. Però... Ho soprenominato il Gullidbuo... Gullidbu... Gullidbu... Rifaccio? Di qua... Grande difensore. Bravo ragazzo. Babin, scaldati. Per un metto di bimbi. Babin, fai la diagonale. Sei un disastro Pierluigi. Però scherzo naturalmente. Tu sai che scherzo. Quindi posso semplicemente dire che è un grandissimo professionista. Per chi non lo conoscesse vi suggerisco la sua simpatia. Pier, sei simpatico. Mi fai impazzire da ridere. Adesso basta. Adesso basta. Per un metto di bimbi.